ci troviamo proprio sotto le mura del castello di san michele come potete vedere in quest'area in cui ora stiamo effettuando queste immagini ci sono due palazzine due edifici che inizialmente erano stati dati alla sovrintendenza e poi restituiti al comune di Cagliari avevamo già denunciato questa situazione di totale degrado e vandalismo come potete vedere è stata addirittura buttata giù questa parete di blocchetti per poter accedere all'interno di questi locali guardate le porte sono aperte all'interno ci sono ancora degli armadi delle scaffalature della sovrintendenza tutto è stato nuovamente rimesso come sul dire alla rinfusa vandalizzato e ancora ci sono delle persone che potete vedere durante la notte durante il giorno possono entrare all'interno di questi locali comunali e proseguendo chiaramente giù per le scale per i piani inferiori ancora tutto è vandalizzato per sardegna live punto net stiamo girando queste immagini esclusive per farvi capire cosa tutto accade qua dentro questa è solo una parte arredi ormai vandalizzati scritte spray tutto l'impianto di riscaldamento è stato come pure anche potete vedere le apparecchiature elettriche è stato rubato e noi ci fermiamo adesso con le immagini perché chiaramente chiamiamo le autorità competenti per poter risolvere quanto prima questo problema grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.